Musica I miei ringraziamenti vanno all'amministrazione comunale che nel comprenno dei 210 anni del Comune ha voluto inserire la mia azienda Creative Collo nell'ambito del progetto sovria dell'innovazione. Questa non è l'inaugurazione di una nuova sede ma la realizzazione appunto di una crescita di qualcosa che già è stata passata. Cioè un anno fa abbiamo iniziato questo lavoro appunto a San Mango d'Aquino con i ragazzi di San Mango abbiamo portato avanti una nuova sede grazie appunto a questi risultati ottenuti nel Comune di San Mango abbiamo riportato questa progettazione anche sul Comune di Soveria. In questo momento diciamo Soveria è la mia città di nascita comunque ci tenevo tanto a fare questo progetto e a portare avanti appunto l'opportunità appunto di posti di lavoro e di poter dare appunto la gestione di un lavoro più sicuro e più tranquillo anche per la popolazione. Di conseguenza è un lavoro sempre fatto di sacrificio e di volontà e di opportunità. È normale che anche nei piccoli paesi con la capabilità e la voglia di fare impresa si può anche ottenere in queste piccole realtà delle realizzazioni così grandi anche come un supporto per quanto riguarda anche a livello nazionale. Come diceva Andrea Bonacci, questa ovviamente è la seconda sede di Creative Call dove abbiamo esteso questa lavorazione di supporto tecnico Fastweb che portiamo avanti già da un annetto. Abbiamo fatto dei risultati importanti per cui abbiamo deciso di investire anche su Soveria Mannelli per quanto riguarda questo tipo di lavorazione. Speriamo di crescere, di raddoppiare i numeri di quello che siamo attualmente. È importante e non è sicuramente un caso che il giorno del compleanno del Comune di Soveria Mannelli oggi il nostro Comune compie 210 anni stiamo inaugurando l'ampliamento di una impresa giovane nata nel nostro territorio qualche anno fa ha compiuto i primi passi timidamente qualche anno fa come dicevo e oggi ne confermiamo il successo e speriamo che possa veramente rappresentare un'opportunità di lavoro per tanti giovani in cerchio di prima occupazione. Un'impresa giovane per giovani in un settore di straordinaria evoluzione come quello dei servizi telefonici e che amplia a Soveria Mannelli un'attività che sicuramente potrà dare ulteriori sviluppi confermando la nostra comunità come uno dei luoghi delle opportunità. a Soveria Mannelli un'attività